Pizzeria Danico, da tre generazioni. Il gusto della pizza, ampia sala climatizzata, antipasti freddi e caldi, pizze, panzerotti, frittelle, pizze speciali con impasti al farro, farina nera, grano saraceno, semi di chia. Ed inoltre troverai i dolci della casa e la buonissima specialità, straccetti alla Nutella. Siamo aperti a pranzo il martedì e giovedì. Servizio da sporto e a domicilio. Prenotazioni tavolate per comprianni ed eventi al 346 84 97 502. Free Wi-Fi, servizio ricarica batteria del tuo smartphone al tavolo. Dispone anche di un comodo parcheggio. Pizzeria Danico a Bari, in via Gentile 54 barra C. E la sede storica in via Leia Piggio a 73 barra A. E in via Conella 22 nel quartiere Sant'Anna.